Ben trovati dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. In questo nostro appuntamento affronteremo solo due argomenti, uno abbastanza corposo perché è stato il tema dell'ultima seduta d'aula, il tema cardine, vediamo subito insieme, allora quelli sono i titoli, si parla del piano rifiuti, il Consiglio regionale dal via libera all'adozione a maggioranza, sono 22 i voti a favore, 13 i contrari e poi si parla di un doppio fine settimana di eventi a Sinalunga attorno alla storica Fiera alla Pieve. Entriamo nel vivo del nostro incontro di questa settimana, il Consiglio regionale della Toscana approva quindi come detto a maggioranza l'adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, il piano regionale all'economia circolare. C'è stato un lungo, lunghissimo confronto d'aula che è partito al mattino e si è portato fino a dopo l'ora del tramonto, quindi anche in notturna, il piano passa quindi con voti a maggioranza, sono 22 a favore del Partito Democratico e Italia Viva, i voti contrari delle minoranze, 13 della Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Movimento 5 Stelle. Sono stati anche respinti tre ordini del giorno del Movimento 5 Stelle, 8 di Fratelli d'Italia e i due della Lega. Nel corso appunto della lunga seduta di aula è emersa la disponibilità però della maggioranza di affrontare in commissione i temi che sono stati presentati nell'ordine del giorno e quindi da qui la decisione da parte della Lega di ritirare altri dieci ordini del giorno, così come è stato ritirato uno di Fratelli d'Italia per ripresentarli poi sotto forma di atti di indirizzo in commissione. Peraltro vogliamo anche ricordare che la Presidente della Commissione Ambiente, Lucia Di Robertis, ha espresso in aula la disponibilità proprio della maggioranza a affrontare nella stessa sede, proprio a margine dell'adozione del piano, anche i temi degli ordini del giorno che sono stati respinti proprio nell'ultima seduta. Ma facciamo il punto della situazione partendo dal Presidente della Regione Toscana e le sue dichiarazioni. Io ritengo che questo piano in realtà fissa tre principi fondamentali, il superamento delle discariche che sono una vera e propria bomba ecologica da un punto di vista ambientale, non tanto nell'immediato ma per quello che saranno le nuove generazioni, da più del 30% passiamo a non più del 10% dei rifiuti in discarica, dell'innovazione tecnologica ovvero superiamo inceneritori, termovalorizzatori e andiamo verso nuove forme, l'ossi combustione, la scomposizione molecolare che quindi rifiutano anche la stessa emissione perché i rifiuti li vanno a concentrare nel calore che poi può essere rigenerato per funzioni energetiche con quelle nuove tecnologie che saranno applicate negli impianti che vengono dal basso. In terzo luogo proprio la partecipazione e il senso di rivoltare l'impostazione per cui con un piano si impongono degli impianti dei rifiuti e invece noi vogliamo che proprio le proposte che vengono dal basso, comuni, enti di gestione, gli impianti dei rifiuti vengano a essere fatti laddove c'è un clima per cui un comune magari con l'obiettivo anche di ricavare risorse decide di fare impianti dei rifiuti. Ci sono lezioni in Toscana, pensate al comune di Peccioli che con i rifiuti hanno costruito il loro sviluppo, la loro qualità ambientale, la loro qualità culturale. Quindi ecco partire dal basso invece di partire dall'alto quanto sia una visione di modernità. È un piano che guarda al futuro e che è in linea anche con le indicazioni del guardare futuro che fa l'Europa perché è un piano che dà alcuni obiettivi importanti, quello della riduzione nella produzione dei rifiuti, della riduzione dei rifiuti che possono andare in discarica riducendoli a meno del 10% quando saremo a regime. È un piano che indica l'obiettivo di una modalità quali quantitativa migliore per quanto riguarda la raccolta differenziata e che dà degli strumenti per creare delle filiere industriali invece per il riciclo e il recupero dei rifiuti. Quindi è una risposta che verrà data alle famiglie, che verrà data all'ambiente ma che viene data anche all'economia perché in queste filiere industriali possono anche nascere e sorgere nuovi posti di lavoro. Noi siamo consapevoli che è una proposta importante ma che ha ancora bisogno di alcuni perfezionamenti. C'è stato un bando che ha puntato a recepire la volontà di realizzare impianti anche innovativi che non hanno emissioni di CO2 in atmosfera. Abbiamo visto che questi impianti sono proposti in molti territori ma mancano invece in altri territori e il lavoro che deve essere ancora fatto è quello anche di stimolare, di accompagnare dal punto di vista politico e dal punto di vista istituzionale tutti i soggetti interessati soprattutto le comunità d'ambito affinché in ogni territorio ci sia una dotazione impiantistica adeguata in maniera tale da poter trattare i rifiuti facendoli circolare il meno possibile perché con più i rifiuti vengono trattati correttamente in prossimità e con più ci sono dei risparmi economici e migliora sicuramente il bilancio ambientale. Ma in Italia è stata determinante nel sostenere un piano dei rifiuti che di fatto diventa un piano dell'economia circolare che noi abbiamo trasformato in piano industriale, un piano che produce lavoro, che produce energia, che produce calore quindi fa dei rifiuti, una materia prima per la produzione industriale che in Toscana era necessaria una Toscana che diventa solidale dove territori importanti come Siena, Rezzo, Pisa, Livorno, Grosseto danno anche una mano solidaristica all'area della Piana Fiorentina che non è stata in grado in questo momento di riorganizzare al proprio interno la propria definizione infrastrutturale la Toscana che diventa una regione unica. Per questo noi abbiamo anche sostenuto una battaglia di un ambito unico territoriale e continueremo a sostenerla il dato politico rilevante di questa battaglia sui rifiuti è che Italia Viva è stata determinante nell'accelerazione per l'approvazione di un atto che era dovuto dopo tre anni che era un impegno di legislatura che fa ancora più salda il legame che c'è fra Partito Democratico e Italia Viva nel sostegno a Eugenio Gianni e in questo caso all'assessora Monni. Questo piano fa un sacco di discorsi, è molto ideologico, richiama tanto l'economia circolare di cui si trova traccia nella normativa europea, nazionale e anche già regionale e quindi in realtà bisognava passare al concreto. Dal 2017, anno in cui non è stato fatto il famoso termovalorizzatore di case Passerini lato centro, che è quello dell'area metropolitana, si trova in squilibrio strutturale con i rifiuti e vengono portati fuori regione, fuori Italia oppure in altri ambiti come quello del lato costa. Questa è una situazione insostenibile e questo piano non risolve questo tema. Non dice quasi nulla sulle compensazioni economiche a favore dei comuni che comunque già ospitano impianti, non dice quasi nulla sulla riduzione che è il vero obiettivo e sul riciclo dei rifiuti. Si è limitato sostanzialmente a registrare le proposte da parte degli operatori privati e pubblici, il famoso bando, ma di queste 39 solo 18 ad oggi si sono tradotte in proposte, il che vuol dire evidentemente che manca in Toscana una regia seria sui rifiuti e purtroppo lo sconteremo in bolletta nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Questo piano dei rifiuti ha innanzitutto una gestazione lunghissima, lo attendiamo da 10 anni ed è quasi pronto da 3 e in realtà si è andato a creare grazie a quelli che sono stati gli interventi su avviso appunto fatto dalla regione dei privati. È un rovesciamento completo, invece di essere la regione toscana che ha dato delle indicazioni a seconda di quelle che erano le esigenze di smaltimento, gestione, raccolta e rifiuti ha chiesto ai privati dove vorreste fare un impianto e in base a quello daremo un'occhiata e cercheremo di fare un piano dei rifiuti su quella impostazione. Non solo, finanziariamente l'intero piano si appoggia su alcuni aspetti e su alcuni impianti come per esempio il gasificatore di Empoli che è stato respinto dalla popolazione che in pratica sovverte completamente l'equilibrio finanziario di questo piano. Insomma, probabilmente dall'adozione all'approvazione passeranno 60 giorni e dovrà essere radicalmente cambiato. In tutto questo i cittadini naturalmente si chiedono qual è il guadagno che ne avremo in termini di riduzione delle bollette, miglioramento della gestione, della raccolta e quant'altro. Probabilmente niente o addirittura un peggioramento perché all'interno di questo piano si va a inserire quel progetto drammatico della multi-utility grazie alla quale un servizio come quello che viene fatto dal Comune di gestione dei rifiuti verrà buttato all'interno di una borsa e quindi praticamente le tariffe dipenderanno da quelle che sono le scommesse degli investitori in borsa piuttosto che dal reale costo di quello che è il lavoro che viene fatto. Ecco il guadagno che avranno i cittadini da questo piano che è assolutamente sconclusionato nella nascita come matrice iniziale e soprattutto per gli obiettivi che sono belli sulla carta ma in realtà irrealizzabili. Se è vero che c'è anche una necessità di accelerare i tempi perché la Toscana riscontra un gap impiantistico assolutamente grave in particolar modo lato centro che è sotto gli occhi di tutti in questi giorni è anche vero, come ho messo in evidenza, che la procedura che prevede l'approvazione del piano con una fase di adozione, le osservazioni e poi l'approvazione definitiva da dove in sede di osservazioni il piano fosse largamente stravolto tornerebbe indietro in sede di adozione e quindi questo ci potrebbe far perdere ulteriore tempo. Poi che dire del piano? Il piano è un piano che non è coraggioso, non fa una scelta di pianificazione nascondendosi un po' dietro le norme ma in realtà a nostro avviso, come ho detto in aula l'articolo 199 della legge 2006 ci permetteva ampiamente di dare più supporto alle amministrazioni locali, alle comunità, agli ato per dare una direzione che servisse anche ad affrontare le difficoltà di quando si scende a terra con determinate tematiche su chi poi questi impianti si ritrova a casa. In secondo luogo c'è un impatto molto ideologico contrario ai termo valorizzatori ma ahimè gli impianti nuovi a cui si guarda anche attraverso l'avviso pubblico sono impianti poco conosciuti, difficilmente realizzati, ce ne sono pochissimi esempi quindi si sa poco di questi impianti, non c'è una concreta fattibilità sul campo e di questo si preoccupano soprattutto gli addetti ai lavori e sono molto costosi pensate a waste to chemicals, 200 milioni, 250 milioni il costo mentre invece il termo valorizzatore è una tecnologia che conosciamo che nel tempo è assolutamente migliorata dal punto di vista dell'impatto ambientale e che inevitabilmente chiuderà il ciclo o cercherà di chiudere il ciclo perché ad oggi le difficoltà sono grandi basta vedere quanti rifiuti vanno fuori dalla regione, vanno fuori dall'Italia, dalla Toscana e quindi quanto è da un punto di vista economico il prezzo che i cittadini si trovano a pagare ogni giorno in Italia poi c'è un altro tema importante che potrebbe essere sfuggito non essendo un tema classico durante le audizioni la responsabile per la partecipazione ha criticato fortemente la procedura di approvazione del piano e ha messo in evidenza degli elementi dicendo che c'è il serio rischio che questo piano venga impugnato e che possa essere annullato e anche questo è un elemento sul quale ho richiamato l'attenzione del Consiglio regionale e della Giunta perché altrimenti il tempo veramente si rischerebbe di perderlo e seriamente E dopo il tema del piano rifiuti qualcosa di estremamente più leggero ma molto importante per la zona sud della nostra Toscana siamo a Sinalunga, il borgo in provincia di Siena ospita la Fiera alla Pieve una manifestazione con una tradizione ultracentenaria che si perde nel tempo e che quest'anno si svolge nel fine settimana dal 30 settembre al 3 ottobre ma anche nel successivo il 7 e l'8 ottobre quindi un appuntamento davvero da non perdere, sentiamo di cosa si tratta Si parla della nostra storia, si parla delle nostre tradizioni si parte dalla fatica nel lavoro dei campi per arrivare a messaggi più vicini a noi oggi alla necessità di valorizzare la filiera corta, alla necessità di investire in agricoltura in agricoltura di prossimità ecco questo è un momento in cui si parla del nostro passato ma si parla anche del nostro futuro si mantiene insieme le tradizioni con le innovazioni e si fa a Sinalunga uno dei borghi più belli della nostra regione In un mondo dove siamo sempre connessi, globalizzati una fiera così partecipata dà anche la contezza di quello che significa per un territorio di origine anche agricola fare una fiera del genere dove vengono poi trattati tutti i temi legati alle nostre radici quindi fiera dell'agricoltura piuttosto che le tradizioni legate alla chianina ma non solo a tutti i prodotti tipici ed anche a Comune Sinalunga è gemellato con Aish Champagne quindi c'è sempre anche un'esposizione dei gemellaggi effettuati con gli altri paesi quindi è un momento conviviale che però raccoglie anche i temi attuali e che dà la possibilità di riunirsi in un contesto anche più leggero se vogliamo visto anche il periodo che stiamo vivendo È una tradizione che va avanti, un appuntamento atteso da tutta la comunità che poi negli ultimi anni è diventato anche un evento di promozione del territorio di attrazione anche turistica perché alla fiera si può fare di tutto è diventata dopo le ultime modifiche di questi ultimi anni una delle fiere più estese della Toscana quindi con quasi 600 banchi tra espositori e venditori e attrazioni per cui insomma questo è un vanto di questa zona e di quella parte della Val di Chiana insomma chiaramente come tante iniziative di questo tipo affondano le loro radici insomma nella fede quindi è una festa religiosa dedicata alla Madonna del Rosario che poi comunque ha significato per quel territorio per decenni, per secoli insomma anche il momento di promozione dell'economia locale in particolar modo dell'economia agricola insomma quindi perché insomma la Val di Chiana è un territorio di agricoltura di eccellenze alimentari e soprattutto a Sinalunga insomma è dove è presente la razza chianina proprio in questo comune è stata selezionata ai fini del 1800 e oggi insomma rappresenta una delle migliori carne più blasonate a livello internazionale poi abbiamo cercato anche di valorizzare l'aspetto enogastronomico in particolar modo alcune specialità come ad esempio il cioccolato sarà presente appunto una rassegna di cioccolatari che realizzeranno una barra di cioccolato di circa 10 metri oltre a dedicarsi a tutta una serie di cookie show in favore dei bambini ci sarà presente l'associazione pizzaioli campani con i pizzaioli acrobatici e avremo anche delle cantine enogastronomiche sono stati convolti tutti i vari consorsi della nostra provincia e in particolar modo assistiamo per la prima volta dopo diversi anni al ritorno della fratta quindi sarà presente la toraia con il suo torello quindi ricreando quello che è un po' la sua presenza nel Lungarno Fiorentino e per questo nostro appuntamento con Del Consiglio è tutto vi ringrazio per essere stati con noi vi ricordo per tutti gli aggiornamenti e le informazioni c'è il sito internet www.inconsiglio.it io vi ringrazio e vi do appuntamento tra 7 giorni quando ancora saremo insieme in Dentro il Consiglio www.inconsiglio.it